Sidoli Perceval, scrittrice francese di successo, si trova all'aeroporto di Parigi in partenza per il Giappone. La donna un po' trafelata sta effettuando il check-in, poggia il suo bagaglio sullo scherrevole della compagnia aerea, ma improvvisamente ritira la valigia. È in ritardo e pensa di non fare più in tempo a prendere l'aereo. In realtà è solo assalita dai dubbi, forse non è così tanto sicura di voler partire. Ecco, queste sono le prime immagini di viaggio in Giappone, mon film di Elise Girard. Ma chi è Sidoli? Perché sta partendo per il Giappone? Iniziamo a capire qualcosa appena scende dall'aereo. Ad accoglierla c'è il suo editore, perché lei è una scrittrice, Kenzo Mitsubuchi, con il quale inizia un lungo tour nel Paese del Sollevante per presentare una riedizione del suo primo libro. È Kenzo che l'ha invitata e i suoi incontri con i lettori mostrano subito che l'editore ha avuto ragione. Le persone la amano e la considerano un punto di riferimento per uscire dal dolore. Già, perché il libro di Sidoni è frutto di un dolore. Poco più che adolescente ha perso i genitori e il fratello in un incidente d'auto. Lei è la sola superstite, viva e miracolosamente illesa. Come per un senso di colpa, irrefrenabile, l'allora giovanissima scrittrice sfoga il suo dolore nelle pagine del suo libro. Ed è subito successo. Sono trascorsi molti anni da allora, ma il passato sembra tornare quando Kenzo le chiede di presentare di nuovo questa sua opera prima. Nel tour attraverso il Giappone, l'editore, come buon amico, l'è sempre vicino. Man mano che passano i giorni, i due cominciano ad aprirsi. E così Sidoni racconta che ha recentemente perso il marito, l'uomo che fra l'altro l'aveva aiutata dopo la disgrazia. Anche lui in un incidente automobilistico, una cosa quasi del destino. E che il dolore che pensava l'avesse abbandonata, ora l'avvolgeva di nuovo. Ho riflettuto molto prima di accettare l'invito. Mi sembra quasi irreale essere qui. La scrittura è ciò che resta quando non abbiamo più nient'altro. Non so che mi succede. Non piangere, prego. Anche Kenzo non è felice. Il suo matrimonio è alla deriva. E questo viaggio con la scrittrice è come una boccata d'aria in una vita in cui gli entusiasmi sembrano essersi persi in un tempo ormai veramente troppo, troppo lontano. A un tratto viene qualcosa. Sidoni si accorge che il marito in qualche modo sembra non l'abbia abbandonata. La sua immagine comincia a comparirle nei momenti più inconsueti. Ma ciò che la sconvolge è che queste apparizioni sono sempre più frequenti e, anche se impalpabili, sempre più concrete. Ne parla con l'amico Kenzo ed gli spiega che il Giappone è una terra strana dove le anime delle persone amate a volte possono ripresentarsi per un ultimo commiato. Chi è lei? I fantasmi vivono tutti intorno a noi. Sei davvero tu, Antoine? Sidoni. C'è vero che ti vedo a tutti da qui? C'è perché siamo al Giappone. Perché sei tornato? Non sono tornato. Non me ne sono mai andato, Sidoni. Entrambi sono consapevoli che si tratta di una suggestione, ma allo stesso tempo Ella si rende conto che se il marito le si è ripresentato proprio in quel viaggio vuol dire che quella terra è veramente propizia a rimescolare le carte nella sua mente. Sidoni e il suo accompagnatore visitano Osaka, Kyoto, Tokyo e poi l'isola di Naoshima. A quel punto gli impegni che la presentazione del libro impone diventano quasi marginali. Ogni sosta finisce per essere soprattutto un lungo momento di riflessione. e i due finiscono per unirsi sempre più. Un film dell'anima che a tratti assume l'aspetto di un road movie su cui scorrono immagini suggestive di un paese a noi in gran parte sconosciuto, il Giappone. Isabelle Huppert è Sidoni, malinconica e affascinante in un ruolo che sembra veramente scritto per lei. L'attore coreano Tsuyoshi Yara è perfetto nei panni dell'editore che fin da subito appare coinvolto dalla sua scrittice. Una donna che non conosceva evidentemente, ma che in qualche modo lo aveva già attratto proprio leggendo il suo romanzo. Quindi questo film è un'opera di riflessione e dolce in cui le immagini e i sentimenti si fondono fino a diventare un tutt'uno lasciando lo spettatore, come posso dire, affascinato e coinvolto come dopo aver letto proprio una bella favola. In Giappone teniamo i sentimenti per noi. Avevo paura, credo, dell'ignoto. Sono felice di conoscerla. Lo sono anche io. Allora sorridete!